Zona rossa tra le province di Teramo e Pescara per l'elevato numero di contagi in proporzione al numero dei residenti nell'area. La firma dell'ordinanza in capo al governatore dell'Abruzzo Marco Marsilio si tratta di sei comuni ma non c'è penne considerata con dati non sufficienti per essere inserita in una zona rossa. Oltre a Elice ci sono Castiglione, Messerraimondo, Arsita, Bisenti, Montefino e Castilenti. Un'area nella quale in rapporto al numero di residenti si sono registrati numerosi casi di positività al covid-19. C'è la necessità di contenere la diffusione del contagio. Secondo i sindaci della Valfino il numero dei casi registrati e conclamati può costituire un elemento di grave rischio sanitario per il territorio dell'intera provincia e non solo. Rischio incrementato ovviamente dall'elevato numero di attività produttive presenti operanti nella zona con conseguente flusso quotidiano di lavoratori. I sindaci chiedono quindi un'ordinanza regionale simile a quelle già adottate dall'Emilia Romagna e dalla Campania che sono già operative. In totale sono stati 47 i sindaci della provincia di Teramo che hanno inviato una lettera al presidente della regione, al prefetto di Teramo e al ministro per gli affari regionali con la richiesta dell'istituzione di una zona di protezione speciale nell'area della Valfino dalla quale nessuno possa entrare né uscire.